no ben a tutti ragazzi ben ritrovati nel nostro canale siamo i last gamers e sono sempre io bizzeff e con sempre mia compagnia c'è il mio amico dei miei editor bella e oggi siamo di nuovo su battlefield 4 perchè a parte vogliamo parlare di alcuni aggiornamenti del canale e a parte vogliamo portare un video diciamo della nuova patch che hanno fatto la la dis la dice come si dice la dice che ha cambiato molte cose praticamente hanno cambiato un cazzo diciamo così ha cambiato solo il fatto che prima le persone morivano normalmente ora sono immortali con la salute a zero camminano normalmente a se vedete i lag eh ringraziati server dedicati se vedete i lag ringraziati ai server no cazzo comunque ragazzi come son morto volevamo dirvi che youtube ha accettato di darci la partnership noi lì siamo molto grati perché abbiamo bisogno di questi soldi abbiamo bisogno di questi soldi per comprarci aspetta aspetta lo dico io ormai avevo iniziato io per comprarci le medicine dato che siamo dei ragazzi malati e l'inps non ci vuole dare le medicine ecco infatti noi abbiamo fatto anche causa l'inps al governo italiano abbiamo detto li abbiamo smontato il cancello abbiamo detto per quale motivo futile non ci vuole passare le medicine poi se diventiamo cattivi ragazzi non prendete prova con lo stato bravo ok a parte quello tu muori cristo ok volevo dirà si siamo diventati partner ok è morto poi l'agm è morto siamo diventati partner cercheremo con i soldi della partner anche se non sono molti non è che mo facciamo i big money non sono pochissimi non ci vuole mettere neanche tentare al cinema se vogliamo a barcos da mare che è a parte quello cazzo ma la e il cecchino è una merda a parte quello che so che era o meglio sono per via marco e cercheremo di migliorare il canale in qualsiasi cosa perchè l'audio del già l'audio del di skype fa cagare quindi poi prima cosa vede che ci compreremo un bel microfono vero l'audio un blu yeti andrebbe bene ragazzi noi annoseremo i soldi della partner per adesso siamo stati iscritti ma una partner di merda possiamo dire però ce l'abbiamo perchè aveva fatto totte visualizzazioni quindi vabbè c'è non anche se noi arriveremo spero di arrivare a livelli tipo di youtube famosi che non dico il nome youtube famosi spero almeno cioè questi soldi li spenderemo no per conto nostro ma per migliorare il canale aggiungendo nuove cose comprando nuovi giochi per farveli vedere a voi eccetera perché hashish marihuana eroina e altre cose e poi escludiamo le medicine il 50 per cento va no dividiamo così il nostro canale allora il cinquante il 25 no il sedente no aspetta il 70 per cento a migliorare il canale il 30 per cento alla nostra marihuana medicinale allora qui facciamo 70 per cento migliorare il canale 15 per cento medicina altro 15 per cento lo spegniamo in goga, hashish e marihuana soltanto e qualche amfetamina 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 e altro possiamo usare tante ci sono tante droghe sul mercato ragazzi tante droghe come uscite l'angelo blu mi pare che si chiama una buona droga però costa 50 euro voi dovete sapere che da qualche anno è stato inventato in africa la cola stick piccata nel naso quella la vorremmo provare e quindi vabbè cercheremo di migliorarci a parte gli scherzi come comunque useremo solito da parte per migliorare il canale poi intanto state vedendo il lag di jesus cry come si dice l'inglese quanto stai facendo? non lo so perchè sto laggando grazie ai grandi server che da butterfield 4 butterfield i server ufficiali fatti come il cazzo un cazzo storto è fatto meglio i grandi server che ci da butterfield poi la mia connessione è una merda infatti voi si sentite una saracina proprio a fare un complimento è una merda se sentite dei miei editor ravvolte a scatti cioè nel senso che sentite dei miei editor una cosa di questo ma perchè tu mi senti a scatti? aditanto no 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 sto scherzando non mi sento scatti però se lo sentite io voglio di ringraziare sulla mia connessione per lì volevo dire ah si ehm no parla poco tu ma e che no mi sentiranno a scatti perchè sennò io l'ostra della chiamata skype quindi parla un poco tu dei miei editor esprimi il tuo pensiero provato più un cristo nessuno ti volevo rianimare ma mi sei crepato davanti agli occhi porterò quella visione per tutta la vita ahahah siamo parlando un poco di batfit il prossimo video sarà su ruot di road to 100mila kill su dead racing 2 ah qua è una cosa molto più importante ma che cazzo una cosa molto più importante abbiamo deciso di chiudere gli episodi di left for dead perchè eh si ci siamo dimenticati di dirlo dato che all'ultimo episodio di left for dead abbiamo visto sette visualizzazioni quindi cioè già quel gioco avendolo finito più e più volte ci stancava un po' poi abbiamo visto anche riscontri negativi e quindi abbiamo deciso di fermare il tutto a parte che poi ci siamo annoiati anche perchè poi è difficile moriamo sempre infatti quando abbiamo provato a fare il terzo episodio siamo morti tre volte abbiamo mandato tutto quanto a puttare quindi ho detto vabbè vaffanculo tanto è un gioco anche vecchio ma pure a te ti fa il lit marker alla black ops 1 maniera no ma fortuna no a me mi fa il cristo che questi non muoiono ecco i morti no a me fa il lit marker c'è io tipo scarico un caricatore addosso a un nemico questo ricchione fuoco amico ti deve venire un cancro nell'orecchio scopo amico e vabbè scherzi a parte scarico un caricatore addosso al nemico poi non muore e poi mi uccide il bello che stava anche perdendo questo vabbè ma che cazzo non sa ah è il lag inconcepibile lascia la parola del mio editor vediamo cosa vuoi dirci sugli epi serie che cosa devo dire che alfa ha vinto alfa vinto ma veramente ha vinto alfa ma giuda ma non siamo noi altri no chissà quanti diversi bisogno delta 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 pro ma capro ma fangule che dici li portiamo un'altra partita si dai sia che ragazzi portiamo un altro pensare la merda di questa partita la merda che abbiamo fatto li portiamo un'altra partita comunque ragazzi dovete scusarci dovete scusare bizzef se il suo putteggio è leggermente di merda però sapete lui non è un pro come me quindi ai ragazzi beh ci sentiamo alla prossima ci sentiamo alla partita successiva ok ragazzi vei trovati nella seconda parte di questo video la seconda partita speriamo qui nella sorte bananai c'è comunque è un'altra partita la 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 livello superiore papilla mamma italiana 10 euro un tasso di livello superiore per creare questi giochi io li do il mano ai kazakhistani una produzione di questo e no a una cosa dice la dai siccome cazzo si chiama i server, server e che server comunque bizzar dove sei sono sono sopra sto cercando di tutto perché la fai a spavare verso di me grazie amico del kit medico vabbè grazie nemico però adesso parola c'è solo il suo pc cosa stai usando assalto buongiorno mamma mia qui ho fatto il progetti bizzar vieni nella hotel vieni andiamo siamo un po' qua ma stai vedo te vedo che sono morto cazzo pure io ti stavo venendo a salvare il culo vabbè se la vi cazzo è la via cazzo è la via se la via ma to che cristo è l'acqua proprio no Cioè devi aiutarmi vedi Sono Gesù cammino sull'acqua Sto gioco ha già i suoi più problemi Più Vabbè Voi per non parlare del bug Che sono arrivato all'ultima missione della storia Vado per continuare il giorno dopo Non mi ha salvato un cazzo Per non parlare della mia connessione Come si muove Ma te mi spieghi come fanno Me lo puoi spiegare a tutti i mail I musulmani quando rubiscono le persone Hanno accesso diretto a internet, no? Come faranno? Perché io no? Perché? Cioè loro trasmettono da una grotta Secondo me Loro da una grotta senza cavi elettrici Hanno una connessione centavolta migliore della tua cara Non si trova neanche su Google Maps Segui la grotta Ma comunque sono meglio di me Qualunque meglio Sono morto Ma ringrazio Ma ringrazio Hai il telefono che c'è l'acqua Hai bizzef Non ti devi Non ti devi Non ti devi Vabbè come si dice no? Non è così No Non ti devi Abbattere Ecco non ti devi abbattere Ok Allora Ma che cazzo Chi il chi il chi Sono io Strunz È un fucking progamer Non posso Ma che è che cazzo Vieni con me bizzef Corri Vado io avanti dato che c'ho il mitra Minchia questa partita Mi sembra molto bella Stiamo vincendo grazie alle mie doti note Oh rianimami Eh si c'è il mitra medico Che cazzo Cazzo rimettiti il medico Sono Contrattacco Su cammingia C'è Il mio contrattacco Lo vedrai nel video Sicuramente Sarà praticamente Che ho premuto R E poi In modo fantastico Il nemico Si accostava R R3 Il nemico Si è accortellato Da solo Mentre io cercavo Di rianimarti Ma dai Ma che schifo Fanatico Con lo sparachiodi Mi ha ucciso Sparachiodi Cazzo Un'arma di merda Lo sparachiodi Non C'è un fanatico Con lo spaventino Di fatto in proprio Wow Ti piace Ti piace Ti piace Ho Ovviamente io rompo il vetro Passa attraverso il vetro Ma Non c'è nulla Nessun frammento Nulla Nessun rumore Nulla Servi un kit medico Se è possibile Vieni qua Dove stai? Sono l'altro porto Del muro Cazzo Dai Che cazzo Non mi serve più il kit medico Sei morto Ora ti serve Una tomba Cerchiamo di rubarla Qualcuno C'è la crisi Dobbiamo smontare Qualche tomba E dobbiamo darla Al nostro amico Bridget Oh Ah Mamma Diciamo che sono diventato Un po' Brogine con cecchino Mi dai da fanatico Sono morti Invece Hai capito che ho detto? Sì sì ho capito Capito Vabbè Lol Smonto cancello Ammazzo famiglia Ma quando mai Io su Butterfield Ho fatto 7-10 Eh Bizzeth Quando mai? Eh? Mi hai mai visto Fare un punteggio Così merdoso? No Oddio Granata Forse ce la possiamo fare Dai Bizzeth Io sono dietro di te Ti coprò io Oh Attento L'hai preso? No Aspelli lancio Una granata Aspelli lancio l'incendiaria Eccolo 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 Cazzo Sono quasi morto Oh lo vado a prendere da dire Aspelli forse lo riesco di uccidere E' mio E' mio E' mio L'ho ucciso L'ho ucciso E' mio E' ho ucciso Un altro Headshot Vieni Bizzeth Che ci curiamo Dove vai? Dove cazzo vai? Non correre come una troia Vieni qua Oso Gatto Morto Morto Sparando Cazzo Sono morto Che pensavi che andavo di là Invece sono andato di qua Ricorda Sei una troia moneta Mi già ricordo Ogni buco è purtuso Oddio Oh che cazzo Mi ha ucciso Il amico Ma va a fanculo Mi ha ucciso L'amico Eh dai fanculo Muori cazzo Ma mi dovete spiegare perché hanno messo i server dedicati e fanno più schifo di call of duty server Oh mio dio spawn e muoio Non mi danni l'interno di ricarnarmi Ricarnarmi Dai ti fico maceta in culo stronzo va a fanculo Quanti bip ci saranno Quanti bip Un po' di sclero su Battlefield 4 Oh my god Io non L'avete visto Pizzef L'avete visto tutti Vabbè Pizzef ho un'idea per il titolo Un po' di sclero su Battlefield 4 Cazzo ti rianimo Ma che cazzo Allora Demetor Tu sai che ho un problema alla cuore no? Tu è vero perché hai preso troppi cazzi in bocca Dì vabbè Comunque Comunque mi sto sfondando di medicina Si comincia bene Ma io Tu devi spiegarmi come fai a raffreddarti ogni singolo inverno Sai com'è? Io non ho la febbre da anni E io ho quattro Vabbè Già se Quattro che? Quattro 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 amici Ti piacciono quattro alla volta Eh maialino Oh ma stiamo vincendo No Porca puttana Non siamo che Non lo abbiamo a vedere C'è Ok stiamo vincendo Grazie a Bidert Che porti in vantaggio la squadra Fare una partita di calcio All'ultimo sangue Vede uno Non mi piace Se perdiamo Mi metto il mio Lumia in bocca Io non me la posso mettere Il mio telefono Un po' troppo grande Vabbè che il Lumia Quando lasse quattro Vabbè Salvoiamoci delle Però Grazie a Bidert Si vince Abbiamo perso Grazie a Bidert Guarda che abbiamo perso L'abbiamo vinto Ma sei tu che saltare lì Come un gay L'abbiamo perso mi pare L'abbiamo vinto L'abbiamo perso Abbiamo perso Vabbè Ragazzi Livello 11 Livello 11 Spero che questo video Vi sia piaciuto Come se Pensiamo che Il prossimo video Sarà su La continuazione Diciamo su Dead Rising 2 Road to 100.000 kill Speriamo di riuscire a farlo Faremo un video Molto lungo E taglieremo Più pezzi Per Per non farvi annoiare Giustamente Perché poi Se vedete il video di un'ora Chi è che se lo vede I malati Non ci provvediamo Perché Già siamo perfatti I nostri malati Però Non vi vogliamo Noi abbiamo già le nostre malattie Quindi non rompeteci i coglioni Comunque a parte di questo Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like Come ho detto No come ho detto Anzi ve lo dico Ma ho aperto una pagina facebook Che sta in descrizione In descrizione Mi raccomando Se volete Lasciate un mi piace Già è seguito Da La mità degli iscritti Vabbè Spero che vi piace Ci vediamo Abbiamo spiegato Sulla pagina facebook Le nostre malattie Che abbiamo Quindi le ritroverete Tutti là Tutti là Tutti là Cercheremo di assumere Qualsiasi sostanza Stupefacente Possibile Immaginabile Che volevo dire Per essere più drogati Possibili Durante le registrazioni Ovvio E vabbè ragazzi Questo è tutto Lasciate un like Scrivetevi al canale Se vi piaciuto il video E ci vediamo Al prossimo video Drogato Ciao Bella raga Grazie a tutti Grazie a tutti